Dopo i match del fine settimana si torna a pattinare nel campionato Alps Hockey League nella giornata di mercoledì da segnalare l'esordio casalingo davvero suggestivo del Legna che ospiterà il Bregenzerwald, formazione sfidata e battuta tre stagioni fa nella finale INL. Nella stessa giornata il Gardenas la vedrà il Pranives col KZ2 e il Renon sarà impegnato a Kitzbühel. Questa sera invece impegni esterni per il Valpusteria e Vipiteno di scena rispettivamente sui ghiacci di Feldkirch e Lustenau. I Lupi cercano la seconda vittoria consecutiva nel torneo mentre i Broncos devono riscattare il passo falso e la prima giornata.